ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui unboxo il mio nuovo macbook pro e aggiorno la mia appostazione inizierei dal macbook ho scelto il modello pro da 14 con m2 pro modello base con una piccola modifica sull'alimentatore che con 20 euro in più mi sono portato a casa quello da 96 watt che mi carica il pc in pochissimo tempo 16 giga di ram 512 giga di ssd ma la cosa che più mi fa impazzire di questo macbook è lo schermo che con i suoi 14 pollici l'xdr rende piacevole l'utilizzo iscriviti al canale dopo averlo configurato e provato un po' però era venuta l'ora di sistemare anche la postazione a 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 risultato finale a a a a a a a a Grazie a tutti.